il maggiore plussiano conte von farlsberg stava finendo di leggere la corrispondenza con la schiena sprofondata in un'ampia poltrona coperta di sontuosa tepezzeria e i piedi calzanti alti stivaloni poggiati sulla base dell'elegante marmo del caminetto qui gli speroni di questi stivali avevano scavato due solchi che nei tre mesi dell'occupazione del castello di uville si approfondivano ogni giorno di più una tazza di caffè fumava su un tavolino di legno intarsiato macchiato da tracce di liquore bruciato dai sigari intagliato dal temperino dell'ufficiale conquistatore che qualche volta smettendo di fare la punta a un lapis incideva su quel mobiletto prezioso cifre o disegni a seconda delle sue pigre fantasie del momento quando ebbe esaminata la corrispondenza e dato un'occhiata ai giornali tedeschi che il furiera gli aveva appena consegnati si alzò e dopo aver messo sul fuoco tre o quattro ceppi di legna verde poiché quei signori per riscaldarsi abbattevano il parco a poco a poco si avvicinò alla finestra la pioggia cadeva a torrenti una pioggia normanna che si sarebbe detto fosse rovesciata da una mano furiosa una pioggia obliqua fitta come una cortina che formava una sorta di muro a righe spieghe una pioggia sversante che spruzzava che allagava tutto una vera pioggia come se ne vedono spesso nei dintorni di Oguan l'orinale della Francia l'ufficiale guardò lungamente i prati inondati e lontano l'andell in piena che stralipava e stava tamburellando contro il vetro un valse del reno quando un rumore lo fece volgere era il suo aiutante barone von Gelweinstein che aveva un grado corrispondente a quello di capitano il maggiore era un gigante largo di spalle adorno ad una lunga barba a ventaglio che gli si stendeva sul petto come una salvietta e tutta l'alta sua persona solenne risvegliava l'idea ad un pavone militare un pavone che portasse la coda spiegata sotto il mento aveva gli occhi azzurri, freddi e dolci una guancia spaccata da una sciabolata ricordo d'una guerra d'Austria si diceva fosse un bravo uomo, un bravo ufficiale il capitano, piccolino, rubicondo con un gran pancione stretto dal cinturone portava cortissima la barba ardente i cui fili di fuoco, visti sotto certi riflessi avrebbero fatto supporre che il suo volto fosse cosparso di fosforo due denti, perduti in una notte di baldoria senza che egli si ricordasse precisamente come gli facevano spuntare certe parole confuse che non sempre si riusciva a capire ed era calvo soltanto sulla sommità del cranio tonsurato come un frate con una villosa corona di corti capelli ricciuti dorati e lucenti attorno a quel disco di carne nuda il maggiore gli strinse la mano e inghiottì da un sol sorso la sua tazza di caffè la sesta del mattino ascoltando il rapporto del subordinato sugli incidenti verificatisi nel servizio poi entrambi si avvicinarono alla finestra dichiarando che il paesaggio non era allegro il maggiore uomo tranquillo che aveva moglie in Germania si adattava a tutto ma il barone capitano ostinato gaudente frequentatore di postriboli forse nato corteggiatore di ragazze s'arrovellava per essere chiuso da tre mesi nella forzata castità di quel comando sverduto sentendo grattare la porta il comandante gridò che entrassero e un uomo uno dei loro soldati automi apparve sulla soglia annunciando con la sua sola presenza che la colazione era pronta in sala da pranzo trovarono i tre ufficiali di grado inferiore un tenente Otto von Grosslig e due sottotenenti Fritz Schoenauberg e il marchese Wilhelm von Erich un biondino orgoglioso e brutale coi soldati duro coi vinti e violento come un'arma da fuoco da quando era in Francia i camerati lo chiamavano ormai soltanto signorina Fifi questo soprannome era dovuto al suo aspetto civettuolo alla sua vita sottile che si sarebbe detta stretta in un busto al volto pallido dove i baffi nascenti si disegnavano appena e anche all'abitudine invalsa di esprimere il suo sovrano disprezzo per gli uomini e per le cose impiegando ad ogni momento la locuzione francese Fifi Donque che gli pronunciava con un leggero sibilo la sala da pranzo del castello d'Uville era un vasto e regale ambiente i cui specchi di cristallo antico sforacchiati dalle pallottole e gli alti arazzi di fiandra tagliuzzati a sciabolate e pendenti a brani testimoniavano gli svaghi della signorina Fifi nelle sue ore d'ozio sulle pareti tre ritratti di famiglia un guerriero coperto di ferro un cardinale e un presidente fumavano lunghe pipe di porcellana mentre nella cornice sbiadita dagli anni una nobile dama dal seno stretto mostrava con aria arrogante un enorme paio di baffi disegnati col carbone e la colazione degli ufficiali si svolse quasi in silenzio in quella stanza mutilata resa oscura dall'acquazzone rattristante per il suo aspetto di sconfitta e il cui vecchio impiantito di quercia era diventato sordido come il pavimento di un caffè all'ora del fumo quando dopo colazione cominciarono a bere si misero come tutti i giorni a parlare della loro noia le bottiglie di cognac e di liquori passavano di mano in mano e tutti abbandonati sulle loro sedie sorbivano con piccoli sorsi frequenti conservando all'angolo della bocca il lungo tubo ricurvo terminante in un uovo di porcellana sempre dipinto come se avesse dovuto servire a incantare gli ottentotti non appena il bicchiere era vuoto lo riempivano con un gesto di stanchezza rassegnata ma la signorina fifì rompeva continuamente il suo e un soldato gliene portava continuamente un altro si annegava in una nebbia di fumo acre e tutti sembravano sprofondare in una brezza torpida e triste la tetra ubriachezza degli sfaccendati ma d'improvviso il barone si alzò lo scuoteva uno spirito di rivolta bestemmiò per dio così non può durare bisogna inventare qualcosa il tenente otto e il sottotenente frizza due tedeschi dotati di fisionomie proprio tedesche massizze e gravi risposero insieme che cosa signor capitano e gli riflette qualche attimo poi disse che cosa ebbene bisogna organizzare una festa se il comandante lo permette il maggiore si tolse di bocca la pipa che festa capitano il barone si avvicinò mi carico io di tutto signor maggiore manderò a Ruan dovere che tornerà con qualche signora io so dove trovarle prepareremo una cena altra parte non manca nulla e passeremo almeno una bella serata il conte von Thalsberg si strinse nelle spalle sorridendo siete pazzo amico mio ma tutti gli ufficiali alzatisi attorniamolo in superiore supplicandolo lasciate fare il capitano signor maggiore ci si annoia tanto il maggiore finì per cedere sta bene disse e subito il barone fece chiamare dovere un sotto ufficiale che nessuno aveva mai visto ridere ma che eseguiva fanaticamente tutti gli ordini dei superiori quali che fossero sull'attente col volto impassibile ricevette le istruzioni del barone poi uscì e cinque minuti dopo un grande carro militare che un tendone da mugnaio copriva come una cupola scattava sotto la pioggia incessante al galoppo di quattro cavalli subito un fremito di risveglio sembrò scuotere gli spiriti le pose languide scomparvero i volti si animarono si intavolò una conversazione per quanto il diluvio continuasse con furia immutata il maggiore affermò che l'oscurità era diminuita e il tenente Otto annunciava con convinzione che il cielo stava schiarendosi la stessa signorina Fifi non poteva star ferma si alzava tornava a sedersi in suo occhio chiaro e duro cercava qualche cosa da spezzare d'improvviso fissando la dama baffuta il blondino impugnò la rivoltella tu non dovrai vederci disse e senza alzarsi dalla sedia mirò due proiettili forarono gli occhi del ritratto poi gridò facciamo la mina e immediatamente le conversazioni si interruppero come se un interesse possente e nuovo si fosse impadronito di tutti la mina era sua invenzione era la sua maniera di distruggere il suo divertimento preferito lasciando il castello il legittimo proprietario conte Fernand Moa Duville non aveva avuto tempo di trasportare né di nascondere niente salvo l'argenteria sedata in un vano del muro poiché il conte era ricchissimo e gran signore prima della sua fuga precipitosa il vasto salotto la cui porta s'apriva sulla sala da pranzo offriva l'aspetto ad una galleria d'arte alle pareti pendevano tele disegni a quarelli pregiati mentre sui mobili sulle mensole in eleganti vetrine mille ninnoli vasetti giapponesi di porcellana statuine di sassonia e cinesi lavori antichi e vetri di venezia popolavano il vasto ambiente come una folla preziosa e bizzarra ora non ne rimaneva gran cosa non che fosse avvenuto un saccheggio il maggiore conte von Farsberg non l'avrebbe permesso ma la signorina Fifi di quando in quando faceva la mina e tutti gli ufficiali quel giorno per cinque minuti si divertivano veramente il marchegino andò a cercare nel salotto quanto gli occorreva tornò con una graziosissima teiera cinese del periodo rosa la riempì di polvere pirica introdusse delicatamente nel becchetto un lungo pezzo di miccia l'accese e corse a riportare quella macchina infernale nella stanza attigua poi tornò in fretta chiudendo la porta tutti i tedeschi aspettavano in piedi con un volto sorridente di curiosità infantile e non appena l'esplosione ebbe scosso il castello si precipitarono insieme la signorina Fifi entrata prima di tutti batteva le mani in delirio davanti a una venere di terracotta che era stata decapitata e tutti raccolsero qualche coccio di porcellana stupendosi delle strane dentellature dei frammenti esaminando i nuovi guasti contestandone altri come prodotti dall'esplosione precedente e il maggiore considerava con aria paterna il vasto salotto sconvolto da quella mitraglia neroniana e disseminato di resti d'oggetti d'arte uscì per primo dichiarando con bonomia stavolta è veramente riuscita ma una tale tromba di fumo era entrata nella sala da pranzo confondendosi con quello del tabacco che non si poteva più respirare il comandante ha perso la finestra e tutti gli ufficiali tornati per bere un ultimo bicchiere di cognac si avvicinarono l'aria umida si ingolfò nella stanza raccando una sorta di polverio acquoso che incipriava le barbe e un odore di inondazione gli ufficiali guardavano i grandi alberi curvi sotto l'acquazzone la larga valle annebbiata da quel rigurgito di nuvole scure e basse e in fondo in fondo il campanile della chiesa erto come una guglia grigia nella pioggia imperversante dal giorno del loro arrivo non aveva più squillato era del resto la sola resistenza che gli invasori avessero incontrato nei dintorni quella del campanile il parroco non si era rifiutato di alloggiare e cibare qualche soldato prussiano aveva anche accettato più volte di bere una bottiglia di birra o di bordeaux col comandante nemico che spesso si serviva di lui come di un benevole intermediario ma non bisognava domandargli un solo rintocco della campana si sarebbe piuttosto lasciato fucilare era la sua maniera di protestare contro l'invasione protesta del silenzio la sola diceva lui che si addicesse al sacerdote uomo di pietà e non di sangue e tutti a dieci leghe intorno vantavano la fermezza e l'eroismo dell'abate Shantawan che aveva il coraggio di affermare il lutto pubblico e confermarlo col mutismo ostinato della sua chiesa l'intero villaggio entusiasmato da quella resistenza era pronto a sostenere sino all'estremo il suo pastore a sfidare tutto considerando quella tacita protesta come la salvaguardia dell'onore nazionale sembrava ai contadini di aver ben meritato della patria più che Belfort e Strasburgo e aver dato un esempio equivalente che in nome del borgo ne sarebbe stato immortalato e all'infuori di questo essi nulla rifiutavano ai prussiani vincitori il comandante e i suoi ufficiali ridevano insieme di quel coraggio inoffensivo e dal momento che il paese intero si mostrava cortese e docile nei rapporti con loro tolleravano volentieri il suo muto patriottismo soltanto il marchesino Wilhelm avrebbe voluto costringere la campana a suonare si rodeva della condiscendenza politica che il suo superiore dimostrava verso il prete e ogni giorno supplicava il comandante di lasciargli fare din don una volta una volta sola così per ridere un poco lo domandava con grazie di gatta con lusinghe di donna con le dolcezze d'accenti di un amante resa pazza dal desiderio ma il comandante non cedeva e la signorina Fifi per consolarsi faceva la mina nel castello Duville i cinque uomini rimasero lì in gruppo qualche minuto aspirando l'umidità finalmente il tenente Frizz disse con una risata ciaffero quelle signorine non affranno per il tempo per la loro pazzecciata con questo gli ufficiali si separarono andando ciascuno al proprio servizio mentre il capitano aveva un grande affare per i preparativi del pranzo quando si ritrovarono a cadere della sera risero vedendosi tutti leccati e lustri come nei giorni di rivista impomatati profumati di fresco i capelli del comandante parevano meno grigi che al mattino e il capitano si era rasa la barba conservando solo i baffi che gli mettevano una fiamma sotto il naso malgrado la pioggia lasciarono aperta la finestra e a intervalli uno d'essi andava ad ascoltare alle diciotto e dieci il barone segnalò un lontano rumore di ruote tutti si precipitarono e presto la grande carretta sopraggiunse con i suoi quattro cavalli sempre al galoppo infangati sino alla groppa fumanti e sbuffanti e cinque donne scesero sulla scalinata cinque belle ragazze scelte con cura dal collega del capitano al quale dove era era andato a portare un biglietto del suo superiore non si erano fatte pregare certi che sarebbero state pagate bene e conoscendo d'altra parte i prussiani che soddisfacevano da tre mesi rassegnate agli uomini come alle cose è il mestiere che vuole così dicevano lungo il viaggio certo per rispondere a qualche segreta punzecchiatura di un rimasuglio di coscienza ed entrarono subito in sala da pranzo illuminata questa sembrava ancora più lugubre nel suo miserevole sfacelo e la tavola carica di carni di ricche stoviglie e dell'argenteria scovata nel muro dove il proprietario le aveva nascosta dava a quel luogo l'aspetto di una taverna di banditi che ce nassero dopo un saccheggio il capitano raggiante si impadronì delle donne come di una cosa familiare apprezzandole baciandole fiutandole valutandole al loro valore di ragazze di piacere e poiché i tre giovani ufficiali volevano prenderne una a ciascuno li si oppose con autorità riservandosi di fare la giudicazione in piena giustizia secondo i gradi per non ledere meno umamente la gerarchia così per evitare ogni discussione ogni contestazione ed ogni sospetto di parzialità le allineò in ordine di statura e rivolgendosi alla più alta domandò in tono di comando come ti chiami e la rispose ingrossando la voce pamela allora gli proclamò numero uno la nominata pamela è acciuticata al comandante dopo aver poi baciato blondin la seconda in segno di possesso offerse al tenente otto la grossa amanda eva pomodoro al sottotenente fritz e la più piccola di tutte rachel una bruna giovanissima dall'occhio nero come una macchia d'intiostro un ebrea equinaso rialzato confermava la regola che attribuisce un naso adunco a tutta la sua razza al più giovane degli ufficiali al fragile marchese Wilhelm von Erich d'altronde erano tutte giovani e grasse senza fisionomie ben distinte rese pressapoco simili di modi e di pelle dalle quotidiane pratiche amorose e dalla vita in comune delle case pubbliche i tre giovanotti avrebbero voluto portarsi via subito le proprie donne col pretesto di offrir loro spazzole e sapone per pulirsi ma il capitano vi si oppose saggiamente affermando che se erano pulite abbastanza per mettersi a tavola e che una volta andate in camera gli ufficiali avrebbero voluto cambiare femmina disturbando le altre coppie la sua esperienza ebbe sopravvento e tutto si limitò a qualche bacio baci d'aspetto improvviso Raquel soffocò tossì fino alle lacrime emettendo fumo dalle narici il marchese col pretesto di baciarla le aveva soffiato in bocca una buffata di tabacco ella non disse parola ma guardò fissamente il suo possessore con un lampo di collera in fondo agli occhi neri si sedettero lo stesso comandante sembrava entusiasta prese alla sua destra Pamela blondin alla sinistra e spiegando il tovagliolo dichiarò capitano avete avuto una bellissima idea i tenenti Otto e Fritz corretti come se si fosse trattato di donne della buona società intibidivano un poco le loro vicine ma il barone von Kelvangstein abbandonandosi alle sue tendenze viziose lanciava motti salaci sembrava di fuoco con quella corona di capelli rossi faceva il galante in un francese del reno e i suoi complimenti da taverna espettorati attraverso il buco dei due denti spezzati arrivavano alle ragazze in mezzo a una mitraglia di saliva esse d'altra parte non capivano niente e la loro intelligenza sembrò svegliarsi soltanto quando egli sputò parole oscene frasi crude storpiate dalla sua pronuncia allora tutta insieme cominciarono a ridere come pazze abbandonandosi addosso ai vicini ripetendo le parole che il barone si mise a sfigurare deliberatamente per indurle a dire delle sconcezze esse ne vomitavano a volontà ubriache sin dalle prime bottiglie di vino e tornando quali erano sparancando la porta alle abitudini baciavano i baffi di destra e quelli di sinistra pizzicavano le braccia mandavano grida furiose bevevano in tutti i bicchieri cantavano strofette francesi e brani di canzoni tedesche imparate nei quotidiani rapporti col nemico presto anche gli uomini eccitati da quel calore di donna messo così sotto il loro naso e sotto le loro mani persero la testa urlarono ruppero le stoviglie mentre alle loro spalle i soldati servivano impassibili il comandante soltanto conservava un certo contegno la signorina fifì aveva preso sulle ginocchia rachel ed eccitandosi a freddo ora le baciava pazzamente e i riccioli debano del collo aspirando nel breve intervallo tra la veste e la pelle il dolce calore del corpo e tutto l'odore della persona ora attraverso la stoffa la pizzicava con furore la faceva gridare colto da una ferocia rabbiosa tormentato dal suo bisogno di distruzione spesso anche tenendola con le braccia la stringeva come per confonderla con sé appoggiava a lungo le labbra sulla fresca bocca dell'ebrea baciandola sino a perdere il respiro ma d'improvviso la morse così profondamente che un filo di sangue scese sul mento della giovane donna e colò sulla camicetta ancora una volta ella lo guardò bene in faccia e tergendo la ferita mormorò me la pagherai e gli rise con un riso duro pagherò disse erano alla frutta mescevano lo champagne il comandante si alzò e con lo stesso tono col quale avrebbe bevuto alla salute dell'imperatrice augusta brindò alle nostre dame allora cominciò una serie di brindisi brindisi di una galanteria di soldatacci ed avvinazzati misti a spiritosazzini o scene rese ancora più brutali dall'ignoranza della lingua gli ufficiali si alzavano uno dopo l'altro cercando ad essere spiritosi sforzandosi di riuscire originali le donne ubriache da non poter reggersi in piedi con lo sguardo vago le labbra pesanti applaudivano ogni volta freneticamente il capitano per conferire all'orgia un carattere galante alzò ancora una volta il bicchiere dicendo alle nostre vittorie sui cuori allora il tenente otto una specie d'orso della foresta nera si alzò acceso in volto saturo di vine e di liquori e preso bruscamente dal colico patriottismo gridò alle nostre vittorie sulla Francia per quanto ubriache le donne tacquero e Raquel fremente si voltò sai conosco dei francesi in presenza dei quali non parleresti così ma il piccolo marchese che la teneva sempre sulle ginocchia si mise a ridere reso allegrissimo dal vino ah 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 io non mai fisti non appena arriviamo se la danno a gambe esasperata la ragazza gli gridò in faccia è falso porco per un attimo egli fissò su di lei i suoi occhi chiari come le fissava sui quadri dei quali forava la tela rivoltellate poi si mise a ridere ah sì settiamo un po bella mia forse che non saremmo qui se avessero un po di coraggio e si animava noi siamo i padroni la Francia è nostra e la sfuggì dalle sue ginocchia con un balzo e ricadde sulla propria sedia l'ufficiale si rialzò sporse il bicchiere sino al centro della tavola e ripetè a noi la Francia e i francesi i boschi i campi e le case della Francia gli altri ubriachi fradici scossi improvvisamente da un entusiasmo militaresco con entusiasmo cieco e brutale presero i bicchiari e vociarono viva la Prussia e li votarono ad un sol sorso le ragazze non protestarono non aprirono bocca impaurite taceva anche Raquel incapace di rispondere allora il marchesino posò sulla testa dell'ebrea il calice riempito di nuovo e gridò a noi anche tutte le donne francesi Raquel si alzò con uno scatto così violento che il calice rovesciato e votò il vino chiaro sui capelli neri come per un battesimo il bicchiere cadde a terra spezzandosi con le labbra che tremavano ella sfidava con lo sguardo l'ufficiale che si guidava a ridere con la voce strozzata dall'ira disse questo non è proprio vero le donne francesi non le avrete lui si sedette per ridere meglio e cercò di parlare con l'accento di un parigino questa è buona proprio buona e allora che sta facendo qui piccolina a principio lei tacque sorpresa e senza capir bene nel suo turbamento poi quando ebbe afferrato con chiarezza quel che lui le aveva detto esclamò indignata io io non sono una donna sono una puttana proprio quello che ci vuole per voi prussiani l'ufficiale la schiaffeggiò ancora prima che finisse la frase mentre alzava di nuovo la mano lei pazza di rabbia prese dalla tavola un coltello da dolci con la lama d'argento e con tale rapidità che non se ne accorse nessuno glielo conficcò nell'incavo del collo proprio dove comincia il petto la parola che la signorina Fifi stava per pronunciare gli fu troncata in gola bastò con la bocca spalancata e uno sguardo di terrore tutti si misero a urlare s'alzarono in gran confusione ma dopo aver buttato la sua sedia tra le gambe del tenente Otto che finì lungo disteso Raquel corse alla finestra la spalancò prima che riuscissero a raggiungerla e si slanciò nell'oscurità sotto la pioggia che seguitava a cadere pochi minuti dopo la signorina Fifi era morto frizze Otto sguainarono le sciabole con l'intenzione di massacrare le donne che si erano buttate ai loro piedi non senza fatica il maggiore riuscì ad impedire l'eccidio e fece rinchiudere in una stanza sotto la guardia di due soldati le quattro ragazze sconvolte poi disposte le truppe in formazione di combattimento organizzò le ricerche della fuggitiva più che certo di poterla riacciuffare 50 uomini sferzati dalle minacce furono sguinzagliati nel parco altri 200 cercarono nei boschi e perquisirono le case della vallata la tavola sparecchiata in 4 e 4 8 era diventata un letto funebre e i quattro ufficiali rigidi e tornati alla lucidità con l'espressione crudele di uomini di guerra in azione stavano in piedi presso le finestre guardando nel buio la pioggia torrenziale continuava uno sciacquio continuo riempiva le tenebre un intermittente mormolio d'acqua che cade e d'acqua che scorre d'acqua che gocciola e d'acqua che rimbalza improvviso risuonò uno sparo poi un altro lontanissimo e così per quattro ore sudirono di quando in quando detonazioni vicine e lontane parole d'ordine vocaboli stranieri lanciati come richiami da voci gutturali all'alba tutti rientrarono due soldati erano rimasti uccisi e tre altri feriti dai compagni nell'ardore della caccia e nella confusione di quell'inseguimento notturno rachel non era stata rintracciata allora gli abitanti furono terrorizzati le abitazioni buttate in aria tutta la zona percorsa battuta sconvolta l'ebrea sembrava non aver lasciato traccia del suo passaggio il generale messo al corrente ordinò di soffocare il fatto per non dare cattivi esempi all'esercito e influsse una pena disciplinare al comandante che punì i subordinati il generale aveva detto non si fa la guerra per divertirsi e frequentare le donne pubbliche e il conte von Farlsberg esasperato decise di vendicarsi sul paese siccome per infierire senza ostacoli gli occorreva un pretesto convocò il parroco e gli ordinò di suonare la campana per il funerale del marchese von Erich contro ogni aspettativa il sacerdote si mostrò docile umile pieno di riguardi e quando la salma della signorina Fifi portata da soldati preceduta attorniata seguita da soldati col fucile carico lasciò il castello de Ville diretta al cimitero per la prima volta la campana scandì rintocchi funebri con un ritmo allegro come se una mano amica l'avesse accarezzata sono anche la sera e così il giorno dopo e tutti i giorni sono a festa finché si volle a volte anzi nottetempo si metteva in moto da sola e lanciava lievemente due o tre rintocchi nell'ombra presa da una strana allegria predestata chissà perché allora tutti i paesani la dissero stregata e nessuno salvo il parroco e il sacrestano si avvicinava più al campanile una povera ragazza viveva lassù nell'angoscia e nella solitudine cibata nascostamente da quei due uomini vi rimase sino alla partenza delle truppe tedesche poi una sera il parroco presa in prestito la carretta del fornaio condusse personalmente la prigioniera sino alle porte di Eguan qui giunto il prete l'abbracciò e la smontò e raggiunse rapidamente a piedi la casa equivoca dove la padrona l'aveva creduta morta da lì la tolse qualche tempo dopo un patriota superiore ai pregiudizi che l'amò per la bella azione compiuta la sposò e feci di lei una signora che non valeva meno di molte altre grazie a tutti 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 grazie a tutti